Uno era un commesso e l'altro era il nostro responsabile di tutto l'ufficio amministrativo. E' il direttore dell'archivio di Stato a ricordare Filippo Bagni e Piero Bruni, vittime della tragedia che si è consumata questa mattina all'interno della struttura di piazza del commissario. L'archivio di Stato ha la protezione antincendio, gli archivi sono protetti da un sistema antincendio a dispegnimento automatico azotargon, cioè l'azoto e l'argo è una miscela inerte, di un gas inerte che in caso di incendio estingue l'incendio. Intanto il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha proclamato lutto cittadino per il giorno nel quale si svolgeranno i funerali delle vittime, con esposizione delle bandiere a mezz'asta negli uffici comunali, invitando gli esercizi commerciali a retini ad abbassare le saracinesche. Sono davvero giorni molto tristi per la città, ha dichiarato Ghinelli, sconvolta in poche ore da eventi tragici e dolorosi, attendiamo tutti la ricostruzione definitiva di quanto accaduto. Sono costernato e profondamente addolorato, ha dichiarato il ministro dei beni culturali, ho immediatamente disposto un'ispezione interna al ministero che possa eventualmente anche essere di ausilio alla procura che ha già doverosamente aperto un'indagine. Ho già disposto l'invio di funzionari ad Arezzo e assieme con i vertici del ministero stiamo seguendo in tempo reale la vicenda. Anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha espresso il suo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. Giudico grave e intollerabile che una tragedia come quella accaduta ad Arezzo sia avvenuta in un edificio della pubblica amministrazione. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per tutti, ancora di più conclude Rossi quando il datore di lavoro è lo Stato. Con la tragedia all'archivio e se fatto un ulteriore passo verso il baratro hanno dichiarato i sindacati confederali delle federazioni di categoria della funzione pubblica CGL, Cisle e Guil di Arezzo. Come organizzazioni sindacali abbiamo incontrato non più di 15 giorni fa il prefetto ribadendo per l'ennesima volta la nostra richiesta di riattivazione del tavolo sulla sicurezza nel lavoro. confermiamo questa richiesta chiedendo che sia per i livelli istituzionali che per il sistema datoriale la difesa della salute e della vita nei luoghi di lavoro sia assunta come priorità.